Oggi è la seconda giornata di consegna della Rosa la Cura, ideata dal collega Francesco Branchetti dell'area pistoiese e poi realizzata in collaborazione con il vivaglio Rose Barni. Il primo appuntamento sono state le sedi istituzionali durante le giornate degli infermieri, sia a Pistoia che a Firenze, dove simbolicamente la Rosa è stata donata al presidio di Pistoia, al presidio di Santa Maria Nuova. A Santa Maria Nuova abbiamo fatto la prima consegna a luglio ed oggi ci troviamo qui all'ospedale Saiacopo, diciamo la zona dove nasce questa infiorescenza, perché vivaglio Barni è pistoiese, perché il nostro collega Branchetti è pistoiese e quindi è particolarmente sentito. È stato realizzato un cespuglio di rose proprio a significare l'unione, il gruppo e siccome questa è una rosa estremamente forte e resistente, dà un'infiorescenza semplice, primordiale, primitiva, ma anche una fioritura a grappolo, a grappolo che ci identifica il gruppo e con il gruppo si può vincere le sfide che l'infermieristica del futuro ci può mettere di fronte. Sfide che sono molto interessanti perché devo dire che il sistema sanitario nazionale in questo momento non è vivo come si vorrebbe e avremo diverse difficoltà da affrontare e credo che soltanto la professione infermieristica possa farlo con dedizione, determinazione e forza per avere e garantire ai cittadini la cura giusta.